Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Allora oggi nuova avventura Non vi porto in nessuna località turistica o città d'arte Ma vi porto sulle colline di San Colombano a funghi Oggi giornata fortunata Voilà Grazie a tutti Il nostro giretto per oggi è finito I funghi li abbiamo presi Come vedete A sufficienza per farci un bel risottino o un brasato E spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo prossimamente sul canale con un nuovo video Ciao